Credo che per migliorare le cose una strada sia da percorrere ed è quella della partecipazione. Se non viene sancita la partecipazione delle associazioni di cittadini, di utenti, ma in maniera istituzionale e in questo periodo in cui a proposito, non so se ne avete voi conoscenza, ma si sta preparando il regolamento per il funzionamento dei comitati costituiti misti. Allora, prendendo spunto sempre dalla legge 25 del 2006, articolo 6 e articolo 7, dove si parla della partecipazione, dove si stabilisce che in tutti i comitati costituiti misti e le commissioni distretuali i due terzi, e questo bisogna andare a vigilare perché sia rispettato, in due terzi deve essere la rappresentanza dei cittadini, questo è fondamentale. Grazie.